Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui gioco una partita blitz contro un 2157 e gioco la siciliana d4 ok, catturo su c3 gioco cavallo f6, perché? perché voglio evitare il gambetto mora che è sempre un po' complicato e quindi provisco che rientra in un alapin cavallo b6, fb3 e qui va semplicemente cavallo c6 quindi proprio alapin classica qui gioco d6 giusto? sì e poi si cattura di regina e si gioca alfiere 6 se non cattura e mi fa cavallo f3 mi pare d per i5 sì, mi pare proprio d per i5 si gioca altre mostre che può fare nessuna quindi o catturo io o cattura lui presidente 023 che dovrebbe essere italiano o almeno dal nickname sembrebbe italiano altrimenti su lices, su jes.com è più carino perché c'è la nazionalità subito su lices invece non c'è se vi piace l'alapin ho girato molti video su questa apertura quindi magari vi lascio qui sopra tutti i ferimenti o ve li metto a fine video così poi alla fine video potete cliccare e vedete il video sull'alapin E6 è sbagliata secondo me è sbagliata io posso catturare che ha pensato donna h5 scacco g6 non vedo nient'altro ah, vuole fare d5 eh ma secondo me non può perché non può? perché cavallo per alfiere per donna 5 scacco ah, cavallo c3 attenzione quindi alfiere per d5 cavallo per alfiere per donna 5 scacco cavallo c3 666 funziona funziona e niente è la cattura di pedone cattura di pedone un h5 scacco g6 e basta non vedo altro però è interessante comunque non la giudico a priori scorretta perché adesso sono un po' bloccato soprattutto questa alfiere campo scuo quindi io g6 la giocarei subito g6 dell'alfeere g7 lui cosa vuole fare cavallo g5 per catturare qui più su cavallo g5 che mi ha c'è poi donna f3 cosa faccio d5 donna f3 eeeh ha trovato una risorsa interessante allora cavallo d5 cavallo f6 forse cavallo g5 cavallo g5 se cavallo f6 mi cattura e6 cavallo a5 cavallo a5 cavallo g5 cavallo per l'alfiere donna f3 beh io posso pure scappare forse cavallo a5 gli tolgo l'alfiere e poi vedo di difendermi anche se è un po' lenta cavallo a5 però non mi hanno in mente altre idee cavallo a5 cavallo a5 cavallo a5 quindi partita complicata effettivamente cioè in effetti c'è c'è un'idea di attacco non è sbagliata e6 anche se non mi hanno mai giocata poi la controllo con il motore alfe c2 lui giustamente non vuole cambiare i pezzi però mi sta dando un po' di tempi interessanti per me per difendermi g6 cavallo g5 alfe g7 donna f3 toro f8 già per esempio potrei fare oppure cd7 cavallo g5 alfe c6 no mi cattura e6 c7 cavallo g5 donna c7 donna f3 tocco lungo cavallo f7 non mi piace vediamo altre idee e ora potrei riportare il cavallo f6 come pensavo prima quindi tipo g6 cavallo g5 cavallo d5 donna f3 cavallo f6 però io mi devo sviluppo di pezzi secondo me non ho tempo da perdere quindi g6 cavallo g5 f7 donna f3 torna f8 e poi e poi rocco lungo facciamo così h4 subito tanto alfe g7 f5 interessante allora mi devo roccare lungo al più presto come avevo preventivato attivato pedone per mi fa cavallo di 5 e poi mi faccio a scacco quindi devo alfe d7 eh però cade g6 mavolo che forte questo sono degli attacco molto interessanti e quindi più edone per cavallo g5 no non c'è niente se no cade g6 e un l2 io devo concedere e a questo punto forse allora vado con re in d7 mi pedone per pedone per e d7 però questo alfiere poi come lo sviluppo inoltre questo cavallo è pure a lato no non mi piace come sto giocando avrei bisogno di un cavallo in d5 questo cavallo dovrebbe essere tipo qua in f6 b6 alfiere b7 e allora si che la mia posizione può ottenere però così così è difficile cavallo c3 intanto la prima fa è cavallo d5 cavallo per pedone per rimasti dai poi mi difendo che poi perché non ho catturato potevo catturare vabbè ora penso a giocare veloce ho perso tantissimo tempo perché è una posizione molto complicata però effettivamente non mi è piaciuto come sono uscito in apertura quindi potrò gestire meglio sia il tempo sia giocare mosse migliori comunque vediamo ora di sistemare questa partita allora ho bisogno che questo alfiere si sviluppi o in b7 o in a6 quindi questa è la cosa più urgente in modo tale che libera la torre e cavallo c4 mi fa alfiere a4 scacco e la gioco cavallo in c6 perché lui vuole fare cavallo per cavallo e poi catturarmi il cavallo in a5 finito comunque è sbagliata perché lui sta attaccando anche abbastanza bene e quindi dovrebbe giocare tutte le mosse veloci qui potrei pure catturare non vorrei essere ingordo quindi non catturo però devo muovere veloce quindi andiamo un po' di pre-move perché se no qua la perdo per il tempo b6 cavallo b4 alfiere a6 molto bella vediamo se riesco c'è sempre sul primo è d4 in presa però ho paura ad aprire linee con il mio re al centro preferisco cambiare i pezzi tanto ho già un primo in più quindi se non fa niente cavallo b4 attacco l'alfiere poi alfiere a6 attacco la regina e poi posso fare torre c8 insomma mi sistemo in un attimo con guagni di tempo ok a prescindere anche rocco lungo va bene quello b4 lo scacco non l'ho più pensato si l'avevo dimenticato però attenzione qui non ci sono tipo idee 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 tipo matti a3 facciamo comunque alfiere a6 ecco qua che succede cavallo per cavallo c'è cavallo di 3 scacco alfiere a3 cavallo a2 però non si riesce a dare matto ma così ho perso un pezzo no ho perso un pezzo così dai non ci sta forse proprio il tempo terribile 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 questa partita giocata malissimo e allora vediamo cosa avrei dovuto fare vediamolo insieme si può essere anche istruttivo per poi allora sono sicuro che a6 qui sia sbagliata e chiediamo al motore e invece di giocare giusta cavolo e allora a6 mi ha sbagliata no esiste proprio questa linea non me la ricordavo completamente non me la ricordavo completamente attenzione qua d6 subito dice ma se vediamo il libro allora c6 ok ah d5 d5 qui si gioca per evitare 6 ahhh ok ora ora mi sono ricordato e6 quindi bella allora ovviamente non si è su niente il problema è che è difficile questa posizione non ho giocato g6 perché avevo pensato a cavolo g5 alfile g7 e pensavo di poter una f3 cose simili ah è che f6 cioè per difendermi ok quindi già la colla 5 è sbagliata ed è ovvio che è sbagliata l'abbiamo visto anche nella partita per questo collo diventato fuori gioco in apertura ovviamente bisogna prima pensare al sviluppo dei pezzi quindi va contro invece di apertura e effettivamente non c'è alcun motivo per andare contro interessante quest'idea h4 h5 sì insomma tutta la partita poi sotto ma soprattutto è una partita difficile poi da giocare da notare che l'alfile g4 è sbagliata quindi intuitivamente non l'ho fatta ed era corretto e dopo cavallo per d5 per 1 per cavallo per d4 cavallo per c'è il dono di 4 scacco ok c'è l'attacco doppio non l'avevo visto sinceramente però mi puzzava aprire le linee con il mio re al centro non può essere corretto donna e2 b6 non gli piace e invece donna g8 vabbè dai chi giocherebbe donna g8 qui sì ok che difendi e6 però chiudi la torre torre f8 magari va però b6 mi sembra la mossa più intuitiva troppo lungo vallo b4 niente passerà all'attacco non ha senso poi ha senso cambiare i pezzi quindi c3 ho detto rc7 il problema di queste posizioni è che sono difficilissime da giocare per me quindi per il nero in questo caso e quindi effettivamente il suo tradificio e6 è assolutamente corretto molto molto forte questo avversario ditemi nei commenti che ne pensate vi lascio qui i video sui due salapin dove spero di non consigliarvi di 6 che è sbagliata ci vediamo alla prossima ciao ciao